le emozioni, il pubblico è palpitante perché non vede l'ora di assistere no ti dirò guarda io mi hanno fatto un bel regalo la music Casori però loro l'hanno organizzata per me e per il mio pubblico visto che poi Casori è nato il mio successo il primo ricordi la Fattoria alla famosa e ho detto sì mi fa piacere siamo festeggiando questi miei 40 anni però ne sono tante le canzoni stasera facciamo uno spettacolo più per il pubblico che è presente per vedere questi 40 anni di Mauro Natti saranno forte emozioni i primi buona serata grazie grazie anche agli ospiti che verranno ciao 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 ciao